Sacchetti, guanti e palette hanno attraversato ieri mattina le vie di Balestrate per raccogliere quanti più rifiuti possibili. Questa è l'attività al centro della passeggiata ecologica organizzata dall'Associazione Plastic Free, in collaborazione con una locale enoteca. L'iniziativa, coordinata dall'insegnante Leonora Puccio, ha avuto l'obiettivo di sensibilizzare i giovani al rispetto dell'ambiente, a partire dal proprio paese. All'evento hanno partecipato anche allunni e famiglie dell'Istituto Comprensivo Rettorevola di Balestrate, guidati dal dirigente scolastico Benedettolo Piccolo e una rappresentanza dell'Associazione Fare Ambiente, che armati di palette e sacchetti hanno raccolto un po' di tutto, dalle bottiglie di vetro alle cicche di sigarette. Siamo riusciti a coinvolgere veramente tantissime persone, soprattutto oltre alle associazioni, all'enoteca garante che ci fa da supporter. C'è anche la presenza di tantissimi studenti della scuola secondaria di primo grado e anche della scuola primaria, insegnanti, quindi la partecipazione è sicuramente molto elevata. Quindi il nostro messaggio speriamo che arrivi a quante più persone possibili, perché è importante prendersi cura della propria città, del proprio pianeta e oggi ne siamo l'esempio, quindi siamo veramente contenti. Troviamo soprattutto sigarette, molti croni di sigarette, sono tantissime, nonostante ci siano alcuni cestini, le persone continuano a buttare le cicche per strada. Troviamo anche bottiglie di birra, lattine, tantissime indifferenziata, quindi dobbiamo cercare di portare questo messaggio veramente a più persone possibili ed evitare tutto ciò. Cioè vogliamo riuscire a non organizzare più passeggiate ecologiche o raccolte di rifiuti, perché questo non dovrebbe nemmeno esistere. Quindi crediamo e speriamo che il messaggio arrivi. L'idea allora è quella di far capire che nel nostro piccolo possiamo fare tanti eventi di questo tipo e la sostenibilità e il rispetto per il nostro paese dovrebbe essere sicuramente al primo posto. Come ha detto Leonora, questi eventi non dovrebbero sussistere, perché in realtà il problema forse andrebbe risolto a monte attraverso un'educazione civica un po' più presente. Però è bellissimo che tante persone così domenica mattina ci si possano trovare per ripulire il paese, per dare una mano in più e quindi siamo contenti che sia andata bene.